Banca Popolare Sant'Angelo Il tema è particolarmente importante, si parla di ZES, zone economiche speciali, Banca Sant'Angelo vicino agli imprenditori. Sì, abbiamo pensato a maggio di stipulare questa convenzione con ZES e con il professor Amenta che è il commissario governativo della ZES Sicilia Occidentale proprio perché riteniamo che ricadendo alcune aree della ZES Sicilia Occidentale nelle zone dove sono presenti le nostre filiali sia importante dare una possibilità alle imprese di partecipare a questa importante iniziativa che tra l'altro consentirà non solo alle imprese già esistenti ma anche altre nuove imprese che non fossero anche nostri clienti di usufruire dei finanziamenti che sia il PNRR che la regione siciliana ha destinato alle aree che possano comunque portare un beneficio per i rapporti interregionali, per i trasporti e collegarli con la viabilità e i trasporti nazionali ed internazionali tant'è che sono state identificate delle aree portuali, tra cui anche il porto delicata per esempio, dove possono essere insediate queste nuove infrastrutture finanziate. La cosa importante è che ZES, diversamente da quello che accadeva prima, ha dato massima autonomia al commissario governativo il quale con un atto autorizzativo unico che fa saltare tutta la burocrazia precedentemente esistente può concedere, laddove evidentemente ci siano i requisiti, il finanziamento a queste infrastrutture. Riscontriamo sempre la vicinanza di Banca Popolare Sant'Angelo nei confronti di temi importanti per l'economia cittadina in questo caso si tratta di ZES, zone economiche speciali. Sì, la banca svolge il suo ruolo, la fondazione svolge il suo ruolo, la fondazione Corella ha organizzato questo convegno quale migliore occasione per portare a conoscenza di tutte le imprese, dei soci, della clientela di questa iniziativa che ancora secondo me è poco conosciuta e poco sfruttata. Il territorio si presta perché c'è il porto, anzi le cate sono due porti, uno turistico e uno commerciale e quindi poter sviluppare sulle zone antistanti e retrostanti il porto sicuramente è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire sia per l'imprenditoria locale sia per attrarre gli investimenti che vengono da fuori. Un convegno importante, si parla di economia, si parla di ZES, Banca Popolare Sant'Angelo vi ha manifestato la sua vicinanza su un tema che va a impattare notevolmente sull'economia. Sì, la zona economica speciale è un'occasione per la Sicilia perché è uno strumento di coesione quindi uno di quegli strumenti che mira ad accelerare l'economia per far sì che si possa recuperare finalmente per la prima volta o meglio per la seconda dopo tanti anni un po' di gap col nord. La Banca Sant'Angelo ha sposato questa iniziativa, abbiamo firmato un protocollo d'intesa e quindi per noi è un partner importante che può accelerare la promozione trovando gli investitori per le aree tra cui anche quella di Ricata. Dottoressa, una volta di più Banca Popolare Sant'Angelo si dimostra vicina al territorio, si dimostra vicina all'imprenditoria locale, in questo caso si tratta di ZES? Sì, si tratta di ZES e la Banca Sant'Angelo come sempre non vuole mancare a questa opportunità. Le ZES sono un'ottima opportunità intanto per favorire la crescita delle imprese locali e anche l'insediamento di nuove imprese e le ZES ricomprendono tutta una serie di aree dove la Banca Sant'Angelo c'è e anche questa volta la Banca vuole essere presente. Abbiamo stipulato una convenzione e oggi ne parleremo col professor Amenta. È importante ovviamente anche la presenza dell'imprenditoria locale. Certamente, è proprio per favorire l'imprenditoria locale che stiamo stipulando questa convenzione, proprio per dare quelle opportunità a questa provincia, ad Agrigento, a Licata, alla Sicilia in generale. È un'ottima opportunità che non dobbiamo perdere, la Banca sarà vicina agli imprenditori.